ciao ragazzi con questo ingresso sui miei due Makita il banco sporco e una pinza malandata voglio aprire il mio primo video parlato di un canale nel quale cercherò con costanza vi prometto di portarvi con me tutti i pomeriggi dopo le quattro e mezzo quando esco da lavoro in officina oggi vi farò vedere lo smontaggio della testa della mia Maserati Racing che dopo la rottura della cinghia di distribuzione ha piegato tutte le valvole di aspirazione di entrambe le teste e oggi vi porterò il video dello smontaggio solo di una testa come si vede le valvole sono molto piegate ma comunque con un buon lavoro in officina di rettifica sicuramente risolveremo essendo questo il primo video voglio darvi anche una view sul resto della macchina questo è il motore che ho tirato giù l'altro giorno e dire ottime condizioni generali pessime condizioni estetiche tra sudazioni ossido e nidi di topo la fanno da padrone comunque la base è buona visti 52mila chilometri originali vedremo un po' adesso cosa fare sicuramente voglio intanto fare le teste vanno motore da restaurare così come tutto il resto dell'auto che faremo step by step vi lascio quindi a questo video spero vi piaccia iscrivetevi al canale per altri contenuti di di questo tipo ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.